Salve ragazzi ed eccoci qua tornati in questo nuovo video Pagelle del Bari con lo sfondo dei seguaci della Nord ragazzi Oggi siamo tornati per le Pagelle dell'FC Bari 2014-2015 Partiamo subito Guarda, 7 e mezzo, ottimo portiere L'unica nota positiva di una stagione abbastanza sfortunata per il Bari è il ritorno in porta del streamo difensore appunto calabrese Che da poco ha appena firmato il suo rinnovo contrattuale Guarda mi ricorda molto Gillet, un'ottima dote, un'ottima dote appunto e ottimi riflessi Un gran portiere da tenere sicuramente se dobbiamo tornare in serie A Donnarumma, 4 In carica come primo portiere fino se non mi sbaglio alla 25esima giornata Dopo il 5-2 con il Livorno Donnarumma viene scalato al secondo portiere La notizia più bella in questa stagione Donnarumma era stato chiamato in causa per tornare in serie A come primo portiere Ha deluso alternando ottime parate nella prima parte di stagione a papere horror Da buttar via direttamente Michai Il giovane portiere arriva dal sud di Rol all'Alto Adige Non delune, anzi gioca le ultime due o tre partite del campionato Facendo comunque vincere il Bari contro il Brescia Ed evitando il cappotto contro la Spezia In tutti i casi Michai è un ottimo portiere 6 Da tenere come dodicesimo Ligi 5 Arriva dal Crotone con ottimi pregiudizi Con ottime aspettative Ligi aveva giocato benissimo con il Crotone lo scorso anno portandola ai playoff Quest'anno poco e niente Mi spiace ma Ligi non è un giocatore da Bari Infatti Valentella Benedetti Senza voto Si infortuna prima della fine della stagione gioca pochissimo Un acquisto inutile Io aspettavo Gio Silva e poi mi vedo arrivare Benedetti Con tutto rispetto Non è un giocatore da Bari Rossini Senza voto Questo si che è un ottimo difensore Ottima esperienza anche il Serie A Sassuolo Tuttavia non riesce a lasciare il segno Dopo le prime partite Dopo le prime partite Un problema familiare lo costringe a lasciare il calcio In bocca al lupo a lui e tutta la sua famiglia per il proseguere la sua carriera Grazie comunque Rossini Camporese 5 e mezzo Ottimo giocatore Aveva portato il Cesena in Serie A un anno prima Non insegna però al pubblico barese come si festeggia una promozione Anzi alterna buone partite a pessime partite 5 e mezzo Rada 5 Il giocatore rumeno arriva tra grandi aspettative del pubblico barese Finalmente un giocatore che aveva anche giocato la Champions League Prima partita Prende due gialli e fa pareggiare il Perugia La partita Il suo esordio con il Bari Finisce 1 a 1 La sua partita di esordio con il Bari E' proprio Bari-Perugia che finisce 1 a 1 Se non ci fosse stata la sua espulsione Il Bari avrebbe portato a casa 3 punti Grazie comunque Rado 5 Rinaldo 6 e mezzo Il giocatore arriva tra meno aspettative rispetto a quelli che ho citato in precedenza Ma Rinaldo fa vedere comunque che in coppia con Contini non demerita Prende la maglia numero 8 di Schaudone E sicuramente fa anche meglio del centrocampista Contini 7 A parte di avermi rubato il taglio di capelli ma non è importante questo Contini è un ottimo difensore Va tenuto e vince anche il premio Klassingelson per il suo impegno in campo Un ottimo difensore Con anche un po' più di fortuna avrebbe potuto segnare anche i suoi 2-3 gol Che avrebbero permesso a Bari forse di poter accedere ai playoff Ottimo giocatore Calderoni 5 e mezzo Questa è una foto che lo ritrae mentre caloppa sulla fascia nella stagione scorsa Un grandissimo giocatore Anche se la comproprietà tra Bari e Chievo si risolverà E lui rientrerà al Chievo Verona Grazie comunque Marco Simbolo della stagione 2013-2014 Filippini 5 Un giocatore così non si commenta neanche Non lo voglio più vedere al Bari e in generale nella città di Bari Uno così ha fregato solamente lo stipendo Torna alla Lazio che è meglio Sabelli 7 e mezzo Se Sabelli dovesse andare in Serie A dovrebbe solo ringraziare la città di Bari Che li ha voluto bene come un figlio Sabelli è un grandissimo giocatore e gli auguro di terminare in una squadra come Roma, Lazio, Fiorentina, Inter o Milan O forse anche la Juventus Anzi Juventus no, vista la rivalità Comunque grazie per questi 4 anni trascorsi a Bari Stefano sei un grande Vai così e in bocca al lupo per l'europeo Salviato 5 e mezzo Arriva comunque come difensore di scorta Non delude, non demerita, ma neanche merita 5 e mezzo per un 5 e mezzo stentato Ciudone 6 In queste pagina ho messo anche chi poi è andato via a gennaio Ciudone è un grande E' comunque l'esempio di una grande sportività Lui ci ha insegnato a sognare Ci ha insegnato comunque a tornare allo stadio Ne ha voluti 25.000 Siamo andati in 25.000 Ne ha voluti 40.000 Siamo andati in 40.000 Ne ha voluti 60.000 Ci siamo presentati in 60.000 Io spero che torni a Bari Ciudone è uno di noi Solo sarai Sempre e comunque Donati 6 e mezzo Torna in Bari dopo le stagioni in Serie A A Elas Verona e Palermo Non demerita, prende 6 e mezzo Segna anche un paio di gol molto importanti e molto belli Grazie Massimo Resta a Bari Romizzi 6 e mezzo Non demerita neanche lui Forse avrebbe dovuto segnare di più Un solo gol colo con l'Avellino Che non è stato poi così tanto decisivo al fine del risultato Visto che poi quella partita l'avremmo vinta 4 a 2 Romizzi resta comunque a Bari Perché l'anno prossimo forse si torna in Serie A Schiattarella 6 Giocatore che è stato impiegato molto spesso in altri ruoli Ha deluso particolarmente Questo 6 è abbastanza regalato Comunque Il tuo nome è molto simpatico Piacere di averti visto a Bari Grande impegno Grande grinta Stefanovic 6 Premetto che di Stefanovic ho anche l'autografo Quindi è stato uno tra i giocatori che ho accolto più a braccia aperte a Bari Un grande campione Un grande giocatore che avrebbe potuto portare i galletti alla Serie A Dato inspiegabilmente allo spezzo a gennaio Io me lo sarei tenuto in tutti i casi 6 Wolski Senza voto Una vera e propria meteora Tipo uguali cantanti che si presentano a Saremo un anno E l'anno dopo non li senti più parlare Wolski è lo stesso giocatore Arriva a Bari Fa il turista E poi se ne va Chissà dove è andato Nessuno lo sa E nessuno lo vuole sapere Nessun rimpianto Addio Wolski Stojan 5 Il rumeno arriva a Bari tra la contentezza dei tifosi Che se lo ricordano come uno tra i protagonisti della promozione in Serie A E della permanenza in Serie A con Giampiero Ventura Il rumeno delude Aveva il dente avvelenato quando è tornato a Bari E si è visto in Bari Crotone Comunque è un giocatore abbastanza discreto Io gli do 5 Anche se forse nella realtà vale anche di molto di più Rozi 5 L'Aquilotto arriva in prestito dalla Lazio dopo una stagione a Real Madrid Castiglia Gli preferiscono lui a Gioho Silva Questa è una vera e propria idiozia Rozi delude Segnando Rozi delude mettendo segno se non mi sbaglio Solo un assist e neanche una rete Forse avrebbe potuto fare di più Valentella a gennaio senza lasciare neanche il segno in Liguria Inala sei più 75 anni o 19 anni 7 dei punti guadagnati dalla Bari in questa stagione Portano la firma di Minala 1-0 con Latina 1-0 con Cittadella E il grande pareggio col Crotone Ottima stagione comunque per Minala Che alterna cose buone a cavolate Come per esempio con il Bologna In 10 minuti entra Segna un gol in fuorigioco E poi si fa espellere Senza che nessuno capisca più nulla Comunque secondo me Minala dovrebbe restare È un centrocampista molto fisico E abbastanza utile alla manovra bianco-rossa Defendi sei più Capitano il capitano Non si contesta Gioca poco ed è abbastanza sfortunato Ciocchi fisici e scelte tecniche lo tengono fuori Per molto tempo Ma il San Nicola rivuole il suo capitano La fascia dovrebbe essere data a lui Belluomo sei e mezzo Torna a Bari tra la contentezza di numerosi tifosi Delude segnando solo se non mi sbaglio Uno o due gol In particolare quello contro la Provercelli Porta la sua firma Comunque Nicola Resta a Bari Gomelt Cinque e mezzo Ottimo talento proveniente dagli Spurs Il croato però Il serbo se non mi sbaglio Non si mette mai in proprio E non partecipa mai alla causa barese Gioca se non mi sbaglio Tutta la partita contro il Brescia E metta uno spezzone Con quella contro lo spezia Comunque Non gioca bene E a Bari Non ha bisogno di giocatori come lui Boateng Sette Ditemi quello che volete Ma il ragazzo merita molto E arriva a Bari tra la contentezza E lo stupore di tutti Sarà imparentato con Jerome Sarà imparentato con Kevin Prince Si sa che solo nelle prime due partite Metta a segno un assist e un gol Punti che frutta Giocate utili Che fruttano al Bari Sei punti in due partite Comunque Boateng È da tenere Tutto nostro E ce lo teniamo Galano 5 e mezzo Sei Sono indeciso morto Il talento del Foggiano Praticamente È in È praticamente Non è neanche sindacabile Perché è un grandissimo giocatore Galano dovrebbe restare a Bari Anche se lui ha fame di Serie A Se vuole andare Andasse Bari comunque non ti dimentica E non dimentica La bella semi rovesciata Che hai fatto con l'Empoli Restare comunque uno tra i protagonisti Della quasi promozione 2013-2014 E Bagua Se più Arriva a Bari con grande aspettative Grande fisicità Un grande bomber Segna due gol col forsinone Poi si spegne Espulsioni E calci in faccia agli avversari Portano E Bagua a terminare la sua stagione Con un bilancio misero di due reti In se non mi sbaglio Più di dieci presenze Comunque Giulione Grazie di essere passato a Bari Di Luca 6 e mezzo La Zanzara segna un gol strepitoso Coltro il Savona È uno tra i Pucchi Che gioca con Vera Grintek Sente molto il peso della maglia Lui dovrebbe rimanere Ragazzi De Luca È un grande campione Si vede che ha sputato sangue Per questa maglia Perché se vuoi giocare a Bari Devi Saper interpretare I voleri della piazza Che è una tra le più calde Caputo 6 Giocatore pessimo In questa stagione Sbaglia Sbaglia tantissimo Ma mette a segno 10 gol Probabilmente anche Ciccio Non sa come abbia fatto Comunque Secondo me Bisogna cederlo per far cassa Prendendo comunque Qualche altro giocatore È arrivato appena Comunque Catturano Quindi uno tra i Bago E Caputo Vandranno via Mangia 5 e mezzo La stagione con Davies Mangia Inizia abbastanza positivamente L'allenatore Ha grandi aspettative Attorno a sé Parte benissimo Portando il Bari Al quarto posto Della classifica Dopo la vittoria 4 a 2 Con l'Avellino Si spegne piano piano E viene esonerato Dopo Crotone Bari 3 a 0 Grazie Comunque Davies Mangia Nicola 5 e mezzo La squadra di Nicola Ha poca spina d'ersale E poco gioco Ricorda molto quella di Mangia Anzi Mangia forse ha fatto anche di più Ce ne saremmo andati in Serie C Se avessimo continuato con Davies O abbiamo fatto un ottimo cambio di allenatore Questo non lo sapremo mai Si sa solo Che in sella per l'anno prossimo Rimane sempre Davide La North Barese 10 Se c'è una cosa sicura in questi anni Che il pubblico del Bari È sempre stato vicino Alla squadra Indipendentemente da Mattarese E contestazioni Noi ci saremo sempre Forza Bari Sempre e comunque La stagione totale Ha totalizzato un 5 e mezzo Abbastanza misero Ma il Bari ci crede L'anno prossimo Anzi Tra due anni Torneremo in Serie A Forza Bari E se queste piagge Le vi sono piaciute Condividete Alla squadra